aprile 2016 in questo martedì sera vi racconto una cosa vera oggi il giacchetto di paelo rispolverato quello che credevo fosse ormai dimenticato dico io aprile sta finendo ma il freddo ci sta ancora rincorrendo tutti al mare volevano andare il 25 a festeggiare e sì alla fine c'eravamo e stretti l'un agli altri camminavamo sul pontile stretti stretti dai giacconi ben protetti un selfone ci siamo fatti e poi risate come matti certo oggi è stato peggio però dai iniziamo il conteggio manca poco all'estate e di sto freddo le frustate scorderemo poco a poco immergendoci nel fuoco della stagione più bella e inseguendo quella stella i desideri le affideremo e come bimbi sogneremo iniziamo iniziamo